Non volete credere ai vostri occhi e neanche alle vostre orecchie. Non studio, non lavoro, io non guardo la tv. A volte i vestiti sbagliati ci fanno sentire a disagio. Non vado al cinema, io non faccio sport. Io non voglio essere un prodotto del loro mercato. Non studio, non lavoro, io non guardo la tv. A volte i vestiti sbagliati ci fanno davvero sentire a disagio. Io non vado al cinema. Io non faccio sport. Io sono un dato di fatto. Non studio, non lavoro, io non guardo la tv. A volte i vestiti sbagliati ci fanno sentire a disagio. Io non vado al cinema. Io non faccio sport. Io cerco centri di gravità, permanenti. Non studio, non lavoro, io non guardo la tv. A volte i vestiti sbagliati ci fanno sentire a disagio. Io non sono un vuoto. Possiamo essere tutto quello che vogliamo. Possiamo essere tutto quello che vogliamo. È una questione di qualità. Allora. Allora. Grazie.